Sono un educatore dell'HDI, nel mio centro di urno abbiamo utilizzato il Click4All di Aspi sia in maniera ludica, abbiamo attaccato le uscite del Click4All a questi pad rivestiti da alluminio per simulare il suono di una batteria. Andrea, il ragazzo che usa questo tavolino sulla carrozzina nel nostro laboratorio di musica, suona la batteria grazie a Click4All. Invece Manuele, un altro ragazzo del nostro centro di urno, usa sempre il Click4All per manovrare il mouse e quindi muoversi dentro una playlist musicale dove toccando con la guancia questo cuscino scorre le canzoni presenti all'interno della playlist e attraverso questi switch facilitati fa partire la canzone o la stoppa. Invece Manuele